Ti presentiamo l'app di preghiera cattolica per le preghiere quotidiane Little Goodness Prayer World Scarica la ora Ciao e benvenuto a Little Goodness Siamo lieti di pregare con voi oggi I Misteri Gloriosi del Rosario Attraverso il Rosario oggi Sottoponiamo tutte le nostre intenzioni e necessità di preghiera All'intercessione della Santa Madre Cominciamo con il segno della croce Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Io credo in Dio Padre Onnipotente Creatore del cielo e della terra Ed in Gesù Cristo suo unico Figliuolo nostro Signore Il quale fu concepito di Spirito Santo Nacque da Maria Vergine Patì sotto Ponzio Pilato Fu crocefisso, morto e seppellito Disceso all'inferno Il terzo giorno risuscitò da morte Salì al cielo Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente Di là ad avvenire A giudicare i vivi e i morti Credo nello Spirito Santo La Santa Chiesa Cattolica La comunione dei Santi La remissione dei peccati La resurrezione della carne La vita eterna Amen Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio Ora è sempre Nei secoli dei secoli Amen Primo mistero della gloria Gesù È risorto e vivo Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Ave o Maria Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Ave o Maria Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio Ora è sempre Nei secoli dei secoli Amen Gesù mio Perdona le nostre colpe Preservaci dal fuoco dell'inferno E porta in cielo tutte le anime Specialmente le più bisognose Della tua misericordia Secondo mistero della gloria Gesù Ascende al cielo Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Il Signore è con te Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Adesso e nell'ora della nostra morte Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio Ora e sempre Nei secoli Dei secoli Amen Gesù mio Perdona le nostre colpe Preservaci dal fuoco dell'inferno E porta in cielo tutte le anime Specialmente le più bisognose Della tua misericordia Terzo mistero della gloria Lo Spirito Santo Scende su Maria e gli Apostoli Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Ave o Maria Piena di grazia Adesso è il frutto del tuo seno Gesù Adesso è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Adesso è il frutto del tuo seno Gesù Adesso è il frutto del tuo seno Gesù Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è il frutto del tuo seno Gesù Adesso è il frutto del tuo seno Gesù Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen Gesù mio, perdona le nostre colpe Preservaci dal fuoco dell'inferno E porta in cielo tutte le anime Specialmente le più bisognose della tua misericordia Quarto mistero della gloria Maria è assunta in cielo Padre nostro, che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo, così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre E al Figlio E al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio Ora è sempre Nei secoli Dei secoli Amen Gesù mio Perdona le nostre colpe Preservaci dal fuoco Dell'inferno E porta in cielo Tutte le anime Specialmente le più bisognose Della tua misericordia Quinto mistero della gloria Maria è nostra madre E regina del cielo e della terra Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto E benedetto è il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Gloria al Padre e al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio Come era nel principio Ora è sempre Nei secoli dei secoli Amen Gesù mio Perdona le nostre colpe Preservaci dal fuoco dell'inferno E porta in cielo E porta in cielo tutte le anime Specialmente le più bisognose Della tua misericordia Salve o Regina Madre di misericordia Vita Dolcezza E speranza nostra Salve A te ricorriamo Esuli figli d'Eva Gementi e piangenti In questa valle di lacrime A te sospiriamo Orsù dunque Avvocata nostra Rivolge a noi Quegli occhi tuoi misericordiosi E mostraci dopo questo esilio Gesù Il frutto benedetto del ventre tuo O clemente O pietosa O dolce Vergine Maria Amen O Dio Il tuo unico figlio Ci ha acquistato con la sua vita Morte E risurrezione I beni della salvezza eterna Concedi a noi Che con il santo rosario Della beata Vergine Maria Abbiamo meditato questi misteri Di imitare ciò che contengono E di ottenere ciò che promettono Per Cristo Nostro Signore Amen Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Amen